I progetti di videosorveglianza dell'Ornia e della sicurezza pubblica dei comuni di Caltanissetta, Gela Niscemi, San Cataldo e Bonpensiere sono stati approvati durante la riunione del comitato provinciale presieduta dal prefetto di Caltanissetta, in cui erano presenti i vertici delle forze di polizia e referenti della zona telecomunicazione di Palermo. I progetti erano stati presentati dai comuni e sono stati selezionati dal Ministero dell'Interno all'interno del programma operativo complementare POC Legalità 2014-2020. Proprio il prefetto di Caltanissetta e Chiararmenia ha rimarcato l'importanza dei dispositivi di videosorveglianza che assumono una particolare valenza per il potenziamento della prevenzione generale in un'ottica di sicurezza integrata, anche a supporto dell'attività della polizia giudiziaria attraverso l'implementazione dello scambio informativo tra forze di polizia locale e quelle statali. Durante l'incontro i sindaci hanno illustrato le progettualità presentate, tutti con lo scopo di rafforzare la presenza degli impianti di videosorveglianza nei rispettivi territori comunali, maggiormente nelle aree più vulnerabili sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tra cui il centro storico e le aree ritenute strategiche in quanto interessate da episodi di criminalità diffusa. Nei prossimi giorni ci sarà un'ulteriore fase di esame da parte del Ministero.